Bene, questa sera direi che è stato veramente un ottimo inizio. Il primo incontro è stato qui a Federpharma ed è stato particolarmente dedicato ai farmacisti perché si è parlato di comunicazione, comunicazione col cliente, comunicazione con il proprio team di collaboratori. Questa relazione è stata preceduta da una relazione, cioè una testimonianza di un'esperienza di collaborazione tra farmacista e psicologo proprio in Liguria e gli altri incontri invece sono un pochino più specifici e riguarderanno una lezione sulla psicologia della salute, sulla promozione della salute a cura di un professore universitario, un docente di psicologia della salute di Bergamo, il professore Breivanti che proprio ci darà alcune basi per effettuare quella declinazione che noi abbiamo suggerito anche nelle nostre raccomandazioni di educazione alla salute psicologica, conferenze e comunque nell'ambito dei progetti che si possono sviluppare con il farmacista. Abbiamo poi anche una relazione sull'esperienza della Lombardia a cura del professor Molinari, della Cattolica di Milano, un'esperienza fatta in Lombardia qualche anno fa che però ha discorso un grande successo e che ha veramente coinvolto tantissime farmacie. Abbiamo anche una relazione in questo incontro sulla rete dei servizi perché per fare uno sportello orientativo abbiamo bisogno anche di sapere nel nostro territorio che tipo di servizi pubblici ci sono. Il terzo incontro sarà un incontro più specifico, più tecnico, rivolto invece agli psicologi, proprio sulle tecniche del colloquio, declinato anche nel contesto della farmacia, cura della dottoressa Clotide Gislon, psicologa, psicoanalista che ha anche scritto numerosi libri in materia, aiutata dalla dottoressa Bilardo che è una collega che ha fatto esperienza proprio in Lombardia nelle farmacie. Proseguirà questo incontro con proprio un argomento dedicato al personal branding, cioè la possibilità per lo psicologo e per il farmacista di promuovere la propria professionalità. L'ultimo incontro sarà invece un incontro più esperienziale dove verranno formati dei gruppi di psicologi e farmacisti che vogliono provare a, in termini più pratici, fare delle simulazioni di interventi in farmacia. Quindi ci saranno delle sorte di workshop dove a cura dei membri del gruppo di lavoro di psicologia clinica psicosomatica e quindi sarà più un'esperienza pratica. I prossimi incontri saranno l'11 novembre presso la sede dell'Ordine degli Psicologi in Piazza della Vittoria a dalle 9 alle 12.30. Il terzo incontro sarà il 2 dicembre, sempre dalle 9 alle 13 e il quarto incontro il 13 gennaio, sempre dalle ore 9 alle ore 13.